mamma mia che faccia che ho, aspetta, attivo si? oddio buongiorno a tutti, vi presentiamo la nostra esperienza sul vabbò, io oggi non so che devo fare Giulia ti è andato via l'audio per 10 secondi no, non ci posso credere adesso che sta andando bene diciamo, categorie riguardo no, quest'ultima parte non va bene, scusi Eliana era l'ultima slide ho sbagliato già, Eliana ma parte? che devo fare? Eliana? lini, id 276, seconda, quando vuoi a lumbo, decima, quando vuoi ho risbagliato? Bagaglini, terza lo studio che no, ok, scusi, un attimo non si preoccupi cos'è che devo dire, Eliana? che mi sono persa il titolo social? no, Eliana non va bene scusami, ricomincio 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 vabbè, non posso fare l'attrice, abbiamo capito Giulia Bagaglini, quarta alla fine del febbraio posso? quando è che parto? pronto? un peso medio preoperatorio di 42 non ne posso più non so che dirti sarebbero tante cose buongiorno a tutti ringrazio quindi la SICOB per avermi concesso l'opportunità di Eliana caratteristiche preoperatorie un peso medio preoperatorio di 114 delle complicanze non ci riuscirò mai ok allora quando voi eh non vanno avanti le diapositive in questo momento le slide non lo scolgono mi si è bloccato tutto ok un attimo uno speed test vai su internet ma sempre la facciamo una cosa ma tu quella lì l'hai conservata perché ci proviamo se non c'è poi finiranno nel bluver finiranno nel bluver spaziale questa cosa ti percorso